Segretario, perché questo film e quali sono le finalità? Allora, perché questo film? Questo film è perché è un bel film. È un film molto delicato, molto sottile, che Silvio Soldini ha realizzato già qualche anno fa. E perché? Perché merita di essere visto. È un film che tratta della vita, appunto, del quotidiano di alcuni ragazzi non vedenti che in maniera inaspettata fanno delle cose straordinarie. Merita di essere proprio visto. E perché? Perché noi come Associazione Due Colori nel Vento siamo molto vicini alla filosofia del quotidiano, dell'affrontare il quotidiano con serenità e a testa alta. Presidente, ecco, ma perché questo nome, Due Colori nel Vento? Ecco, ma fondamentalmente, ma chi siete? Allora, il nome Due Colori nel Vento, diciamo subito che è stato scelto per uno scopo ben preciso. Intanto io vorrei spiegare ai telespettatori che noi siamo un'associazione molto giovane che è nata due anni fa nel Golfo Spezzino. Abbiamo la nostra base nautica presso Astronautica Provinciale di La Spezia che chiaramente noi qui ringraziamo. E abbiamo un'unità Meteor a nostra disposizione. E noi cosa facciamo? Noi facciamo attività di vela, facciamo scuola di vela rivolta esclusivamente ai non vedenti e agli ipovedenti e alle persone con problemi di vista. Facciamo questa attività applicando, diciamo, lavorando con il metodo Omeros. Il metodo Omeros è insegnato ormai da quasi 20 anni da una scuola che esiste sul lago di Garda e si chiama appunto Omeros e appunto insegna al cieco a portare la barca a vela autonomamente cioè imparando a percepire il vento, imparando a sentire il movimento della barca. Questo potrebbe essere anche un grido di dolore rivolto a chi dovrebbe essere molto più sensibile a certe vostre esigenze, vero? Guarda, io ti dico di no, ti dico di no, questo non è un grido di dolore e mi piace che tu me lo hai chiesto perché mi dai la possibilità di sottolinearlo perché questo è semplicemente una finestra che il regista ha saputo aprire davvero sulla vita che diversi ragazzi protagonisti del film che fra l'altro sono tutte persone che io conosco conducono giorno dopo giorno.